Ciao ragazzi e benvenuti sulla Scuola TV. Oggi parleremo della tanto temuta prima prova, quella che fa stare gli studenti in sogni la notte prima degli esami e che spinge qualcuno addirittura a chiamare l'ambasciata italiana in Australia per sapere le tracce in anticipo. In realtà le tracce in anticipo non esistono, ma soprattutto questa è la prova più semplice, quindi dormite a sogni tranquilli. Se e solo se, conoscete i trucchetti che vi permettono di affrontarlo al meglio. E oggi vi spiegherò questi trucchetti. Il primo è scegliere e individuare la tipologia di prova nella quale siete più forti. Quindi vedere come siete andati nei compiti in classe degli ultimi tre anni e individuare se riuscite meglio nel tema, nel saggio breve barra articolo di giornale oppure nell'analisi del testo. Il giorno dell'esame non cambiare la tipologia, cioè una volta scelta a priori la tipologia non fatevi influenzare dall'emozione del momento. Andate avanti su quella scelta perché questo è vincente. Un secondo consiglio altrettanto importante è l'allenamento. I grandi campioni quando si preparano le sfide si allenano, quindi anche voi dovete allenarvi. E non vi dovete allenare tutto insieme l'ultima settimana, quindi per tempo cercate di svolgere almeno 4-5 prove degli anni passati. Questo vi aiuterà ad arrivare alla prima prova ben preparati. Per quanto riguarda poi le varie tipologie, quello che noi consigliamo è sicuramente il saggio breve, che secondo noi è quella più facile alla portata di tutti. Perché ci sono ben 4 tracce di saggio breve o articolo di giornale e quindi possono andare incontro ai vostri gusti, alle vostre inclinazioni e a quello che sapete. Quindi è molto semplice trovare una traccia che fa per voi. Ma soprattutto per la prima volta lo studente è autorizzato a copiare. Infatti allegate alle tracce ci sono i cosiddetti documenti, che possono essere testi, poesie, oppure foto o dipinti. Magari anche testi di canzoni. E questi documenti devono essere citati obbligatoriamente dallo studente nello svolgimento del saggio breve. Come citarli? È molto semplice. Innanzitutto c'è una lunghezza consigliata, quindi massimo 5 colonne. Quindi è importante non essere né troppo sintetici né troppo prolissi. 3 colonne devono essere dedicate all'esposizione dei testi. Cioè a spiegare quello che viene in qualche modo detto, riferito nei documenti allegati alla traccia. Come si fa? In genere esiste. Tutti i documenti possono essere divisi in documenti che sostengono una tesi e in documenti che sostengono un'antitesi, cioè un'opinione alternativa o contraria in qualche modo in opposizione. Quindi si leggono tutti i documenti, si evidenziano le parole chiave e si dividono individuando quelli che sostengono una tesi e quelli che invece vanno capo all'antitesi. A quel punto le prime tre colonne sono un'esposizione citando o le frasi oppure parafrasando, quindi riassumendo il contenuto dei vari documenti con tanto di citazione dell'autore, proprio della tesi e dell'antitesi, in maniera logica, ragionata e impersonale, cioè quindi si deve sempre parlare in terza persona. Le altre due colonne invece sono dedicate sostanzialmente ad un'analisi delle posizioni che sono state espresse precedentemente e in questa analisi sostanzialmente attraverso il ragionamento che ne scaturisce viene fuori la vostra opinione, ma sempre in maniera impersonale, quindi con frasi del tipo sembra che, si pensa che dal ragionamento si evince che, insomma tutte queste frasi che fanno capire che non siete voi che esprimete l'opinione, ma è frutto di un ragionamento che viene dall'analisi e dall'esposizione delle opinioni dei vari autori che sono stati forniti dal ministero. Molto importante è dare un titolo al saggio breve e altrettanto importante è definire un pubblico al quale questo saggio viene indirizzato. Se siete nel dubbio indirizzatelo al giornalino della scuola, altrimenti potete indirizzarlo a una rivista scientifica o di costumo o di letteratura e via dicendo. L'articolo di giornale invece parte sempre dalla stessa traccia e dagli stessi documenti del saggio breve, però in questo caso l'alunno non deve sostanzialmente riprendere e ripetere tutti i documenti che sono citati nella traccia ministeriale. Infatti bisogna prendere quelli come spunto per dare una notizia e quindi in questo caso non devono mancare le risposte alle cinque domande aure, alle cinque regole del giornalismo, cioè chi, cosa, dove, quando e perché. Queste sono le cinque domande che non devono mai mancare in un articolo di giornale. Anche qua bisogna poi indicare a quale giornale è rivolto il vostro articolo e adeguare il registro linguistico, chiaramente al giornale se è un quotidiano ha un registro linguistico che tutti più o meno possono comprendere, se è una rivista specializzata, che ne so, in filosofia magari ci sono tutta una serie di termini tecnici e filosofici che potete utilizzare liberamente. Anche il titolo deve chiaramente essere adeguato al tipo di giornale al quale è indirizzato l'articolo, che ha una lunghezza consigliata di quattro colonne, quindi è un po' più breve rispetto al saggio breve. Per quanto riguarda invece l'analisi del testo, il ministero presuppone che si possa sviluppare anche senza aver studiato quell'autore che viene proposto nel testo, che può essere in poesia o in prosa. In realtà ci sono alcune domande che richiedono, comunque per poter essere svolte bene, la conoscenza dell'autore, delle altre opere dell'autore, ma soprattutto del contesto storico sociale. Quindi consigliamo a chi vuole cimentarsi con l'analisi del testo di studiare molto bene gli autori di fine 800 e inizio 900, che sono quelli che poi capitano alla maturità, ma soprattutto di ripassare molto bene le figure stilistiche e retoriche. Infatti l'analisi del testo si basa proprio sulla comprensione del testo, quindi quello che vuole dire, sulla comprensione delle figure retoriche e soprattutto sulla comprensione dell'autore e della sua relazione col contesto storico sociale o con le altre opere dell'autore stesso. Quindi consigliatissimo ripassare molto bene letteratura per chi si vuole cimentare in questa prova. Per quanto riguarda invece il tema storico o d'attualità, non ci sono delle regole o dei vincoli particolari. Deve essere il classico elaborato di italiano, quindi ci deve essere un'introduzione, uno svolgimento e una conclusione. Però in questo caso i contenuti li deve fornire lo studente, non si trovano sui documenti. Quindi la cosa molto importante, il consiglio che noi diamo è di non scegliere tracce in maniera emozionale, ma una volta scelto questo tipo di traccia, fare uno schema di tutte le cose che si vogliono dire per capire se queste cose hanno un senso, quindi se non si va fuori tema, cioè se non si dicono cose che non sono chieste alla traccia, ma soprattutto se si ha abbastanza materiale per scrivere. Questo è fondamentale per non cominciare a scrivere e poi ritrovarsi a un certo punto del tema ma non avere più idee o argomenti per affrontare quella traccia. In generale, quindi, ricapitolando, consiglio numero uno, scegliere la tipologia e individuare la tipologia di prova nella quale siete più forti. Numero due, allenarsi su quella tipologia. Numero tre, sceglierla alla maturità senza farsi influenzare dall'emozione del momento. diritto. Grazie a tutti.